Allora un signore, dicevo un campagnolo, che abita in te campagne, mai sceso in città, un giorno ha deciso di ci vuoi andare nelle case d'appuntamento. Si trovava nei pressi di Catania e andò a Catania. Dove andavo quando erano chi, e ha trovato la strada. Era di mattina presto, potevano essere l'otto, i sette e mezza l'otto, incontrano una bella donna e vanno sopra. Allora, sta signora ci fa, lei come vuole fare? Chissà, siccome non è che è un esperto, dice, lo facciamo un bello 69? Chissà, non sapia chi era sto 69. Provato, ci disse, vediamo, e cominciano all'opera. Ora, siccome questa donna era un poco robusta, mentre la facevano un 69, ha chiesto, chi è a me, la signora Cavie, i gocci rossi, ci scendeva l'occhio, e chiesto, non poteva respirare. Ci disse, signora, per cortesia, non potevo provare un numero più basso, un 68, un 69, muasci tutto gornicis.